Ciao, hai mai notato come la gente continua a parlare di qualcosa che si chiama 5G e tu annoisci finché non è troppo tardi per ammettere che non sai cosa sia effettivamente 5G? Allora siamo qui per aiutare. Ok, allora, cos'è il 5G? Il termine sta letteralmente per quinta generazione della rete cellulare digitale. Stiamo parlando principalmente di velocità. Saremo in grado di scaricare enormi quantità di dati in pochissimo tempo. Quindi, nel modo più semplice, non ci sarà fondamentalmente alcun tempo di ritardo tra azione e risposta quando si tratta di dispositivi mobili. Come funziona? In questo momento ci sono 5 tecnologie che stanno emergendo come base di 5G. Onde millimetriche, piccole cellule, beamforming, massive memo e full duplex. La tecnologia che fa la differenza maggiore è quella delle onde millimetriche. I dispositivi che stiamo utilizzando oggi hanno un spettro di frequenze radio fino a 6 GHz. Ma queste frequenze stanno cominciando ad essere più affollate, perché le frequenze fino a 6 GHz solo possono coprire una quantità limitata di bit di data. Come più dispositivi vengono online, stiamo andando a vedere servizi più lenti e più connessioni cadute. La soluzione è aprire nuove frequenze, quelle che cadono tra i 30 e i 300 GHz. Aprire questo spettro significerebbe più larghezza di bandi per tutti. Va bene, ma perché è importante? Perché non stiamo parlando solo di scaricare film o skyping. Stiamo parlando di autoguida. Stiamo parlando di macchine che possono controllare a distanza la vostra casa. Stiamo parlando di medici che possono eseguire operazioni dall'altra parte del mondo. Stiamo parlando di computer che possono parlare tra loro. Stiamo parlando delle reti che collegano quei computer e poi stiamo parlando delle reti che collegano quelle reti. Quando potremo godere della velocità 5 G? Come avete visto nel video, l'implementazione di 5 G è già possibile dal punto di vista tecnico. Tuttavia, ci vorrà un po' di tempo prima di poter godere del 5 G in Europa, in quanto si tratta di investimenti massici nelle infrastrutture e anche le questioni politiche sono coinvolte. La Cina e gli Stati Uniti sono già un po' più avanti combattendo per il posto di guida in questa moderna corsa alla Luna.